... No, 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 no. L'Accademia di Scienze, con i manifesti che replamavanothisunto delle elezioni, di sette o alle proazie, eccetera, eccetera, che tutto iniziò. Non sto con uno scontro all'interno dell'Università di Priscina, l'arribile del 1901. Chiaramente c'è un'enorme questione che andava dentro il problema della cultura e dell'università, una specie di pulizia culturale che precedeva la pulizia etnica, il discorso di reprima del nemico interno, prima ancora che trovarsi contatti a combattere il nemico esterno. In tempi di crisi si raschiava il conto del Barino, la crisi economica europea e le situazioni politiche erano parecchie. Dicevo però che uno studente c'è l'altro che era dal cane, come le persone della Sene, c'è un giocatore che per dei primi l'ha organizzata, un ingegnere, per lei il programma non fa più un ingegnere, ma alcune tanti anni si trovavano ad essere tra i tanti che attraversavano la massa dell'autodobina, guidando avanti e indietro, per portare gli utili. Con quello che caratterizzava l'operazione Italia dell'Edo, che aveva avuto amore o no da qualche padre di famiglia, tra l'altro, di viveri, è un tentativo di dare un senso a tutto questo attraverso una forma consorziale, una consorziale che è estrema e consorziale, da cui aderì attraverso l'associazione di studenti, perché c'era un grande argomento di solidarietà, che voleva non solamente ricordare, ma anche interagini, perché era un rapporto reale a scambio. Ho cominciato ad appuntarmi, c'è abbastanza, quando mi sono reso conto, c'è abbastanza che trovate nell'ultimo, quando mi sono reso conto che la storia che vivevamo sul terreno e non non era la storia che ricevavamo sul giornale, ovvero quella che era in televisione, ovvero c'era una storia della terra dei Balcani, che era una storia, diciamo, all'alto verso il basso, del processo diplomatico, dei buoni dei campini, delle conferenze di pace, e poi c'era una storia sul terreno, che è una storia invece che non era tanto di collisione, quanto di collusioni, di scambi sotto banco, di accordi fatti a luglio, di leader che si sparavano a un lato, che era a casa, aveva fatto scuola insieme e si ritrovava un accordo su tante cose, incluso fare la guerra, rafforzavano solo l'altro, tanto che alla fine delle guerre, quando cadeva uno, poi cadeva anche l'altro, finché c'era la guerra, stavano su tutti. Insomma, mi curiosiva, mi mordeva la questione di quale fosse la logica. Se si ritiravano le due immagini, una sopra l'altra, le immagini dall'alto, le immagini dal basso, se la guerra risulta sul terreno, non coincidevano, erano due guerre diverse. Questo mi astrona quando avevo detto a prendere la parola, dopo che ho uscito a vari anticole, sui vari turisti d'Italia all'estero, io ho lavorato all'università, a quel punto insegnato all'Università di Volunti, sono trasmigrato all'Università di Amsterdam, adesso ho nato da Toscana, e cercare di articolare un percorso che introducesse un'analisi di impongare, ovvero di tutti i fattori extralegali, nelle diverse sfumature di illicità o di criminalità che è un po' ipotizzare, dal settore criminale del proprio traffico di individuo di animo e di droga, fino all'unità del settore informale nel corso delle guerre e dopo guerra. Il libro cerca di saldare la questione della guerra come della pace, cioè cosa della guerra ci illumina la pace, cosa della pace che stiamo cercando di costruire ci rivela nel tipo di guerra che c'è stata prima, quindi è un tentativo di problematizzare guardando alle economie. questo percorso sta accompagnando da tantissimi personaggi che avevano attraversato con lo stesso intendimento. Uno, lo ricordo perché il suo testo sembra fosse più importante all'epoca, è Luca Rastella, che oggi è giusto all'estate pubblica, prima era il mio autore dell'arresti di Marco Mafia, lavorava con il gruppo Aveglia e suo Torino, che scrisse un libro per i danni nel 2008 che si fa la guerra in Carazza e che avendo ospitato un barattoto rifugiato profumo nella sua casa, una montagna sul paradiso, nel branco delle storie e da queste storie erano nate una descrizione della guerra tutta inedita. Da lì mi era il stimolo e il ripartivo di rifletterci che si avvicinasse il più possibile a una notizia scientifica. Il libro nasce da un libro che voleva essere un saccio académico. Quando lo scrivevo mi mancavano le foglie, ho dovuto andare a fare un lavoro di indagini, di investigazione sul terreno, se volete la sua videota di foto, che mi fanno vedere in Balcana come la Sicilia e gli sconti tramanti. Poco hanno a che vedere quelle immagini della sedia, molto hanno a che vedere quelle immagini degli scambi in favore e dei domicili eccellenti, e lungo questo percorso ho cercato di andare verso lo scientifico, la sua accademia, se non per il fatto che poi l'editore ha detto ma guarda qui c'è la materia, per un'altra parte più ampia, mi interessa anche semplicemente cooperando, c'è un riformato, qualcuno che voglia farsi un'idea leggermente diversa, di dove passa una fine tra illegale e illegale, nel momento in cui si muovono le macchine della guerra, nell'epoca della nuvaletazione, della finanza, dei partiti fiscali, della contraffazione delle banche, delle banche di griffa, che eliminano i desideri di consumo delle masse, nelle situazioni di periferia. che leggeranno anche le conseguenze, che sto funzionendo. Dovremmo tornare su questo aspetto, a sua volta parloquatico, per il confine tra legalità e illegalità, nell'epoca della nuvaletazione, perché è una cosa che lo riguarda, solo qualche anno che è più generale. Hai già introdotto un tema, che trova spesso nel tuo libro, è quello dell'impice dimensione, la notte e il giorno, il sopra e il sotto, la legalità e la illegalità. Da questo punto di vista, hai assunto un'immagine, che secondo me è molto molto felice, e che permette anche di capire, che non sia solo un volume economico, ma sia un volume che ha avuto, fa cultura, una nuova cultura, per un maggio più ampio, per il lettore, ed è quello del film a giocarlo. Due grado, è il tunnel, di Usturizen, il tunnel che non va solo sotto, da Exos a parte dell'Atena e dell'Atena, per dire come lui, questo paradigma di qualcosa di sul Germano, attraversa tutta l'Europa, e ovviamente non puoi non parlare, anche nel tunnel, che non può, o la droga, non mi diamo, ma non portava la sua libertà. Ecco, vorrei tornare un po' su questa, su queste immagini, molto felice, che ovviamente costruizza, al di là del fatto che, faccio già un piano, del Sardegno dei Sardegni, che rende con un particolare, niente di niente. C'è questo, nel sotterrende, che capita costantemente, la guerra di Roma, si chiama anche i trattativi, cioè, solo i trattativi ufficiali, che peraltro, hanno regenerato, dei dosi, dei giornali personali, ma al di là del sotterrende, succedeva sempre qualcosa di altro. Succederà qualcosa d'altro, un po' come l'ufficione, un po' come, no? l'ufficione, che, una certosa di Palma, si trova, sullo scinello di guerra, e guardandosi troppo, che nessun caos, non capisce, abbagliato, dal fumo, dalle esplosioni, a starci un po' dentro, dopo un po', questo, beh, un barbiore di stordimento, va scemano, uno comincia a discernere, uno, ma che si muove, cosa fare, comincia a vedere, dentro il tunnel, cosa ci muove. Cosa si muoveva l'epoca, adesso? innanzitutto, 500 lavateranti, legati alle organizzazioni, dei primari italiani, sulla costa, dalla Tarnia, con Tenegrina, avevano, piena cittadinanza, nel senso, un passaporto, e si muovevano, legando, allacciando, canali, che si possono poi montare, per esempio, dalla sacra del 2000, del 2000 e del 1990, alcun episodio, che parte e rientrare, parte e rimanda, insomma, si muovevano enormi interessi, legati al profondo di armi, che io, mi trovo di contare, per quelle che avevano i fondi disponibili, che mi sono, i fondi disponibili, si muovevano, eh, pesantemente, gli accordi che, quella che, come chiediamo, la comunità internazionale, cercare di, eh, stringere, per arrivare, a, a, a una chiusura, di questo, ho capito, parlo della, la pace di tempo, no, che significa, la soprenza, perché è un'incongruenza territoriale, e costruisce il famoso, corredorio, che posca, collega, eh, la città, con i nomi del Mischi, la città insolata, solo per un corredorio, in modo natale, mi ricordo, eh, il famoso corredorio, che si guarda, su una cappa, sembra essere, una anomalia, eh, sono accordi, che venivano sanciti, e stabiliti, sotto banco, così come si, 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 si. Quello che si iniziava, erano colpi di Mortara, il massacro della città di Mostra, che presumo che, dagli terzi, se ne abbiano accennato, siamo stati uno dei cronisti, più importanti, una voce delle più importanti, in quegli anni, eh, cannoneggiamento, era pagato, sono migliaia di anni, non, di 12 marca dell'epoca, per cui, si chiamava, diciamo, quanto vuoi per un gruppo, da una parte dall'altra. Il, eh, quando la Nato avrebbe, e cominciava, a guardare, diciamo, rigidi, un nuovo, e c'è tutta una questione di architettura mondiale, perché la Nato, all'epoca, era una questione difensiva, legata alla guerra fredda, e la guerra fredda finita, la Nato cominciava a concettire, un proprio ruolo, un nuovo assetto strategico, che andava, verso quelle che venivano chiamate in relazione di auto aerea, no? Quindi, anche di proiezione della sicurezza, non semplicemente in relazione in caso d'attacco. Ecco, la Nato, per la prima volta, poteva andare sui cegli di Bosnia, e i primi due aerei che abbatte, sono due aerei, della, 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 della federale iugoslava, all'estate di Bosnia, ma sta, e a connessione, a due conti dei croati, di azionati, che sono stati pagati, per compiere, a parte, alcune impostazioni, eh, insomma, della Nato, delle tirate su, eh, convinti di aver fatto, ma in realtà, il patto, sul terreno, era, eh, benato. A guardarci molto bene, eh, però, questa immagine della notte, che l'utilizzo, insomma, l'impettativo di utilizzare una metafora, ci dice moltissimo, anche dei dopoguerra, e in particolare, di cui mi soffermo molto, sul, dopo che era il Cosovo, oggi, e mi dice, secondo me, un motivo fondamentale, che il Cosovo è, appunto, una pietra di ciampo, un cedulo, se volete, che rimane con l'Unione Europea, eh, il test, sull'Unione Europea, oggi, dando un'operazione enorme, che si chiama EULEX, la legge dell'Unione Europea, è lo standard enorme, quello che è normale per l'Unione Europea, oggi, l'Unione Europea, sullo status, sullo stato, nella spazio del Cosovo, si gioca, il proprio status internazionale. esiste Europa, l'Unione Europea, anche in cui, soprattutto in cui, il Cosovo riesce ad articolare, come un progetto, che è il progetto del largamento di tutti i Balcani, ha la prospettiva internazionale, che non è solo un progetto di politica estera, ma è anche un progetto verso la regione, che domani diventerà un'altra Europa. E, per poter capire cosa è successo il Cosovo, in ultimi decenni anni, in questa notte, esibili del libro, potrebbe raccordare le Umbre del dopoguerra. Cioè, potrebbe raccordare non solo di soltanto la Berenza, la Serbia e la Valencia, che segue la guerra, ma anche, per guardarlo, la Berenza è entrata, nelle diverse fazioni costolano-omanesi, così come alcuni accordi e martingegni intorno alla questione delle violenze sempre rimaste. Io provo a velare profondi, altre, non le posso rivelare, perché, non vorrei niente mandare dubbi su alcune cose, però c'è qua, cerco di costruire un quadro interpretativo di questa, alba, che in realtà si presenta senza sole, che è il quadro corrigio dei Balcani di oggi, in quarta misura da tutti i Balcani, come se non qualcuno legge, ovunque, qualunque rapporto di intelligenza sul coso che è crimine organizzata per amico uno del Paese, e dall'altra parte, non esiste un simbolo dato su un carico di robina ad un riscatto, o comunque, si continua a far finta che il problema non ci sia, c'è una schizofrenia di fondo, che è poi là di dire, se applichiamo uno standard di cosa è giorno, cosa è notte, cosa è legale, cosa è illegale, a quella ragione oggi, noi rischiamo di destabilizzarla, cioè di portare, di stigmatizzare, di portare in caso potenzialmente le persone che dovrebbero sederci a direzziare la stabilità, e qui c'è un problema enorme, che è un problema politico, ed è un problema che non è solo un cossobato, ma è un problema che è un problema in recupero ed è un problema italiano. Io proseguo con le domande per lei, c'è un problema che è un problema che è un problema che è un problema che è un problema dell'economia che caratterizza la guerra dei Balcani, quindi non sono anche una data di inizio che è il 91 con le bar del Balcani che hanno solo delle regioni balcaniche, perché tu dai questa data come data riferimento nel momento in cui c'è il barco qui c'è il diverso della croco di aria in vista ovviamente illegale. Ecco, c'è un'altra per le immagini per sottolineare questo aspetto che è un dato storico ed è quella legata all'economia di guerra, siamo abituati anche dai filmati che è relativa a seconda guerra mondiale delle delle fabbriche tedesche che vivono armi in cui infatti infatti fa parte quella immagine della produzione dei guerri ma tu dici la guerra dei Balcani si passa dalla produzione alla redazione e il 91 è una data un anno importantissimo perché nel momento in cui c'è il barco si dice non si può portare armi dei Balcani e in realtà comincia questo commercio illegale che caratterizza le guerre balcaniere che ovviamente non è prodotto dalle Balcani ma anche le persone si le barco iniziano una festa esattamente e dico proprio se non appare questo momento più ampia rispetto alla crisi la Colombia l'Afghanistan la Somalia in cui lo Stato che è attore primario che dichiara cosa è legge cosa è legale entra in crisi una crisi comatosa l'idea di fondo è questa ma anche nel momento in cui si sancisce una proibizione senza gli strumenti la possibilità di porre in atto ed essere e intanto che ho la volontà per vari tipi che sono di morfologia del territorio così come i tipi di costi che anche un embargo reale si parla di dare il prezzo della merce contramondata ovviamente a diverso livello e a diversi attori ora il ruolo dei mafie o un attore criminale in guerra è una cosa che è sempre esistito dunque tutte le guerre per la settimana guerra mondiale o le guerre coloniali quello che cambia nella situazione di economia fortemente finanziarizzata è il marzo di profitto che in zone di guerra con le attività da ampio rischio sono necessarie e possono realizzare quindi se è vero che per qualche misura diciamo che gli interessi organizzati criminali sono sempre stati presenti come provider di servizi cioè come spettatori di armi erogine non scambio la droga piuttosto che per offrire il livello adattività di promozione di malfazione ed altro quello che è ancora più vero nella fase odierna è che il marzo di profitto è tale che un'organizzazione criminale che lavora molto spesso a servizio di un progetto politico può emanciararsi ma il suo meno provider cioè di corriere cioè di colleghi che pone in atto lo scambio e svolge una catalizza un profitto tale per prendere i mandi del processo e quindi la storia nel paese è di attori piccoli pesci piccoli che dopo la prima fase vengono illuminati per il caso di buonaparte delle milizie che difesero stavano ieri che sono stati sul tappeto fatti a provare a morte in qualche altro paese europeo a farci aggiungere un fosso ma o di coloro che si sono all'equipis anche che appunto da non essere solamente pesci piccoli ma ma evidente è veramente colore che avevano lecce perché quando si poteva la domanda tipicamente ma sono le mafie che lavorano per Montenegro o per Montenegro la risposta di anche tutto il punto impossibile perché è un treccio ma simbiosi tra poteri legali e legali è tale tanta che non è possibile distinguere chi fosse il provider o il fornitore d'opera di chi nel caso dell'embargo di armi ci può avere proprio passato la dirigenza il sapere tecnico della mafia italiana era in grado di mai passare pesantemente qualunque tipo di controllo il rapporto che avevano venire iugoslavi chiaro sentono il fatto che la guerra sarebbe stata devastante col poco intercettato dava chiaramente questa idea e tutto questo filtrava ma appunto filtrava poi si scopre che le armi i detonatori gli esplosivi utilizzati nella campagna dell'armi italiana in Sicilia nella fase in Cosa Nostra decide di eliminare il falcone con Selino era l'esplosivo che poi tornava dalla Croazia o dalla Bosnia e che i giri non servono gli stessi perché se uno va a seguire i soldi si accorge di qualcosa e su questo voglio metterci l'accento si accorge che l'economia di guerra e le guerre portando le guerre delle piccole guerre delle periferie che vediamo in alto nei Balcani funziona come un'enorme aspera polvere cioè funziona come un meccanismo che riesce a saccheggiare lo poco di stabilità e benessere che nel corso di 30 anni 40 anni di pace la famiglia media è riuscita a mettere da parte forse in quel caso in qualche misura in qualche risparmio questi soldi vengono in vari meccanismi chiesti prestiti da qualche fondo per la guerra e la guerra sono saccheggiati direttamente totalmente se non addirittura esplosi in caso fate saltare non potesse tornare indietro in caso di poster sono tutte le case che esplose e questa esplotriazione in massa dove è andata a finire è andata a finire semplicemente sarà convogliata laddove la realtà finanziaria è sicura cioè in conti all'estero in qualche caso nel caso nel Montenegro nel Montenegro nel tesoro nel tesoro nelle banche ciprioche e nei conti cipriati alle bananasse questo luogo questo l'esistenza delle economie di guerra noi siamo abituati alle economie a pensare che un grande storico collettivo in cui la disoccupazione sparisce e vengono impiegati in realtà quello che avviene in queste guerre è che la disoccupazione va a nulla e nessuno produce più nulla e al contrario si ha una grandissima instabilità sul territorio la guerra della Bosnia erano mille il chilometro di fronte fa stagliato disperso difficile comprensione e l'occhio anche di chi lavorava sul terreno molto spesso con punti che cambiano completamente ma che cos'è il rapporto tra guerra e crisi economica se non lo spostamento costante del confine su cosa sia dichiarabile legge o meno cosa sia patriottico o meno l'omologazione la faccio su un dato recente scusate un'enormità ma ne rende il voto ma inter argomento quando può uscire da una crisi economica come quell'altro ha i governi come strategia l'unica strategia è possibile perché non possono svalutare la moneta non possono fare una manovra perché stanno sotto la banca europea eccetera l'unica mossa ancora è quella di spostare un'immagine di cos'è direttamente per cui si decide che si possono allargare le case di 20-40% se decide che è possibile fare qualcosa che non si fotte ma questa cosa ha costruzze finalmente in realtà moltiplicate questo per un milione in qualche misura è una parola logica che indomina secondo me un po' delle cose infatti per questo prima accettavamo al fatto che in diversità del paradigma consolidale il tuo volume le introduce altri e comparabili ad altre realtà ovviamente che termina soprattutto la comparabilità di altre realtà spesso comunque questo prova arriva dietro della parola dell'ultima parte del secolo XXV e su questo torneremo a introdotto dal punto di vista anche a Greco che nasce con questo obiettivo alcune riflessioni particolarmente versate di scienza politica sullo Stato richiamando termini che si adattano anche alla nostra realtà hai citato più volte la base che c'è il tuo volume il commercio di erogine anche a caratterizzato molto forte da personaggi che vanno all'area bancaria e tu dici in particolare che la guarda dell'agente sullo Stato è un problema non è un problema tanto etico quanto politico che fa nello Stato e questa economia anche indegare riporta l'attenzione a due definizioni particolari lo Stato prigioniero lo Stato privatizzato con privatizzato con queste due attenzioni particolari si dà la crisi dello Stato che però è una crisi che non riguarda la crisi città l'esempio di nostro sud l'omicidio di Falcone con Selvino è un esempio di un stato il Presidente vorrei che tu dicessi qualche cosa su queste si esistono mafiologi in Italia che hanno parlato molto su quale parlo utilizzati per laser porto ma si inseriamo una variabile culturale e dallo Stato io cerco che prendo una prostituzione in questo dibattito tra chi sostiene che il ruolo delle azioni criminali in fase di incertezza economica sia fondamentalmente quello di un parasita che ha il suo compito di garantire che il rapporto sul mercato all'investimento cioè io devo fare arrivare un carico di Avagio Milla C'è di tutto Predoni C'è qualcuno che mi garantisce questo servizio è il servizio di momentane questo potete spiegare il momento in una certa fase della guerra in Afghanistan le corte slaniche per quello che riguarda la fase della Somalia eccetera questo è un risultato prolimitante perché per capire la Sicilia in fasi storiche per capire quello che si sta vivendo sui papamonti mondiali si dimentica quando le mafie i gruppi politici diventano imprenditori nel senso troppo cioè quando riescono ad arrivare a intraprendere sono contatti alla porzione di Zurigo stabilendo legami con legami nazionali eccetera eccetera il settore che fosse chiaro su questo il contrabando di sigarette considerato un crimine non sicuramente tra i più importanti con un ampio marcio di tolleranza sociale con una storia italiana e un merito italiano in particolare ed è una storia incredibile se non la segue di cui provare a costruire l'altra perché porta insieme il pescatore costrui in cui a un certo punto si accorge che faceva più soldi se contrabbandava le sigarette verso le coste trastellate del Montenegro e finisce a regalare tutte le uniformi della polizia montenegrina che si sta provando a costituire il monopolio della forza pubblica una scena che è pubblica stato di Montenegro e dall'altra parte questa linea parte con delle piccole storie dei piccoli pescatori dai 36 mila uomini legati al settore del contrabando della Puglia degli sbarchi che era il destino che era il peso di una vaniglia e quant'altro e porta direttamente a Rinsburg Virginia dove le grandi multinazionali del tabacco sono completamente condivenze più incondiscenti rispetto al fenomeno per cui ogni volta che un carico verso il porto di avversa partiva la telefonata verso la bandiera in Sicilia c'era un po' che stava in Svizzera che garantiva che tutti questi passaggi andassero in porto tutto questo fondamentalmente occupava soldi alle radio pubblico alle tasse del italiano europeo questo enorme meccanismo è un orologio che funziona perfettamente per molti anni in parte è stato poi indipendato ma porta con le tante appunti simbiosi e poi gli stati si modificano noi continuiamo a dire stato ma in realtà lo stato oggi non ha più un po' che ha detto che è interessante sempre stando su chi usa le pistole che lo trovo particolarmente allarmante è l'esempio della Bulgaria del rapporto con la stata per la Bulgaria particolarmente in un minuto un'idea che a fase di liberalizzazione economica la Bulgaria post socialista sarà guidata dal mercato perché il mercato ha portato grandi turbulenze disastri sociali ma che alla fine questo si è assestato per oggi un paese e più o meno si dovrebbe stare dentro alcuni cani in realtà si è ricordata meglio tutta l'operazione di privatizzazione della Bulgaria è stata fortemente aiutata da parati statali servizi segreti delle società di import export più o meno pilotate che utilizzavano prestanome uomini e donne facilmente ricattabili amici della caccia erano comunque persone che dovevano poi ripagare il medito che mi avevano concesso per poter entrare nel gioco del mercato per il mercato ovviamente qui ero costringermi a ripagare un calestre piccolo c'erano dei cani d'acqua questi cani si chiamavano i lutri erano il sottocosto l'underground delle palestre di carattere di judo di turismo questa società che noi vediamo come un fenomeno di gaysternismo da poco a poco prezzo no, non lo è perché quando vengono bandite queste forme di rachi che si riciclano in società di assicurazione che si mangiano con una parte delle imprese che qualche cosa controllavano obbligando ad alcune infusioni piuttosto che aprono distruzendo completamente i meccanismi di mercato e alla fine della storia sull'esempio in Bulgaria uno trovava che la Pepsi Cola avrebbe 80% e 20% la Coca Cola perché? le pulveri per esempio la Pepsi c'era un meccanismo di mercato controllato da alcuni interessi che tutto il mercato nelle mani delle centrosi di gusto americano fortemente nelle mani di alcuni interessi che potrebbero dire chiaramente ma la storia non finisce lì perché fuori potere economico continuano ad operare la situazione di anni senza guardia del mercato costituiscono società private di protezione che danno protezione ai grandi politici ricattandoli arrivando all'ese dei loro uomini direttamente nel Parlamento fondando una serie di partiti l'ultimo partito che si chiama Partito Presidente dei Bulgari per l'Europa la cronica che era che era che non si chiama un forno militare che faceva il doppio senso il fondatore il fondatore e il sindaco oggi di Sofria probabile prossimo presidente ex se mi è passato il termine cioè c'è qualche una storia graduale risalita dei meccanismi di potere che esplicita quello che era la nascita delle cartine degli apparati delle vecchie conventicole e pian piano riesce a condizionare quindi era un paese contro la Bulgaria ha chiamato un paese che fuori d'Europa un paese dove sono stati uccisi o lasciati in fine vita negli ultimi mesi e questa storia tende ad andare in quel confronto fuori se i Balcani sono stati una guerra in cui le formazioni paramilitari hanno dettato l'epoca dove sono tutti questi paramilitari questo complesso di miliziani paramilitari mercenari dove è finito oggi? si è tutto tutto in buona parte riciclato in compagnie private di sicurezza che sono quelle per cui tutti hanno tanta voglia di avere più guardie private guardie giurate non sono niente anche queste 6 persone che sono fatte legalizzate in funzioni più o meno chiare perché ogni paese le sue leggi e l'Unione Europea ha fatto finta di non vedere nel senso che questo è libero mercato e quindi c'è competizione tra le diverse di sicurezza e la salute tecnica questo troppo si è molto preoccupante per il presentore dallo Stato senti per darvi poi una sorta di assist sull'immagine del territorio una cosa che mi ha interessato particolarmente in alcuni viaggi in Bosnia è la parte della sacca di via perché perché se si va si arriva un po' in giro rispetto alla costa e si va questa strada particolare questa volta la via ci sarà io si vede soprattutto una devastazione incredibile e chi passasse di lì si chiedeva per quale motivo mi sembrava un territorio molto soltanto abbastanza 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 comunque non strategico ma anche dal punto di vista bellico e nel turismo fa il riferimento a De Dante e a questi personaggi che hanno diventato dal punto di vista bellico probabilmente senza una questione etica o strategica dal punto di vista nazionalistico ma proprio semplicemente per affermare delle economie illegali in buona parte da questo punto di vista è stato caratterizzato dalle economie illegali il libro lo dice molto bene questo è un paradigma secondo me molto importante anche concreto per chi ancora attraverso alcune zone dell'estate non hanno nulla a che fare con la guerra in senso classico o con lo scontro tra le regioni anche se qui arriva su strati battuti in realtà si è giocato proprio con il terzo e l'importanza di questo libro da questo punto di vista è davvero anche fondamentale anche uno spunto molto nuovo ma io non ho detto niente da questo punto di vista di così sistematico e di così preciso ecco perché anche per farci vedere qualche cosa di significativo dal punto di vista territoriale in questo punto di vista è molto interessante perché questi insiemi lanza stati in seguito questo passaggio è un corridoio che viene insieme due parti a perché anche i santo bosniaci sono dettagliati durante la guerra su cui approcci c'è un ordine convenzioso che riguarda la struttura della vostra azionale è importante come territorio internazionalizzato dal punto di vista principale del mercato formale della vostra azionale un mercato in cui passa un po' di tutto quindi dall'ottima quotidiana è quella di migliaia di persone che è quello che fiorisce un po' le categorie diciamo di mercato formale e del quale sono quali sono il mercato si chiama l'inizio che tradisce un po' anche quale rappresenta la regione ed è uno dei tanti grandi mercati che sono vicini al conflitto dell'Europa dell'Europa delle periferie c'è un mercato enorme che si trova vicino a Odessa che si chiama chiamato 7 che è un mercato che stava prima dentro la sedia Odessa adesso sta sempre chiamato la sedia Odessa e uno pesa un mercato che finisce con i banchetti dalle cantate e no sono 1600 container stoccati l'interno mercato fa capo a un paio di persone oggi contando 1200 di decante stabili tra polizia e sicurezza polizia e pulizia e il mercato in cui arriva una media di 100 mila visitatori da tutta la regione Odessa è una città importante perché è stata qui sui confini dell'Unione Europea in qualche misura non si trova mai la Unione Europea ma è un po' di 20 km che ha una sola e notte ovvero in particolare tutto il mondo in particolare la Turchia e la Cina e in questo lavorio intenso vicino c'è un conflitto l'Unione Europea dell'Unione Europea di Tanslistia dove la presenza lussa che possiamo ripestare in forma di secessione ed è un territoriale in contrasto dalla camera argentina che viene fatta con i visti falsi di tangent che viene fatta entrare sul paese più tutto che sull'altro in cui si realizzano soldi su soldi io faccio un panflet contro i mercati informali certo di vuol dire tirare attenzione sul ruolo di sistema che giocano rispetto a un assetto geopolitico un caso di grande mercato che è stato sgomberato una settimana prima nell'antacco in Georgia una geologia ex sovietica da Santa Civili quest'estate con stato attacco da quelle parti tra l'assenza del sud e Georgia e Pilisi una settimana prima che è stato ricordato è che l'innovazione georgiana ha fatto sgomberare a Militaria un enorme mercato che sta sul confine che forniva un specifico cuscinetto in cui si incistava l'ammonia in una zona frazionale la zona dell'innovazione l'azione militare è stata proceduta da un spazzare di angi mercatoale in cui il mercato informale si collega il mercato informale dei grandi conti cifrati è che il mercato è quello dei conflitti che vengono fatti apparire come effermite un trucco montabile il mercato che ha realizzato una cosa per esempio il mercato di sortire nazionale realizzando la nazione come un corpo organico della perta del territorio della mutilazione ci torneria ci torneria ci torneria ci torneria ci torneria tradizione mutilata di l'idea del nazionalismo che ha conquistato il nostro sole delle nazioni il grande centro commerciato il grande mondo le diverse etichette le varie vif del caffè italiane e l'immagine appunto la vedete più piccolo di Ademashari che è stato il primo grande patriarca albanese con la città e montagna che sparò contro i sedi prima in passato a città che ruggito dell'innovato della montagna e con il massacro della sua 22 persone molate familiare alla retorsione dell'esercito delle forze del ministero dell'interno e serbe l'idea lì è quella che lui non si consente non si diceva a sagrare con tutta la famiglia morirebano e bambini e ammattiti tutto questo c'erano in questo piccolo critico del pieno di Cristo che ancora oggi sono indipendenza la sposta città americana auto che scuola una testa in manca le parti queste sono altre immagini che sono delle prime di un'immagine del produttivo delle montagne e qui vedete un festeciamento per esempio di un uomo qui è sempre lui vedete che c'è un po' la scritta a parte di cui significa padre c'è un riconoscimento il papà e la padre mission accomplished da parte dell'esopertura di Cristo anche la materia albanese e la materia dell'esopertura dell'esopertura sicuro questa è la strada di Cristo città città è un'isopertura europea l'unica è un'astra dell'unica europea che si occupa della ricostruzione del Kosovo così come Ulrich ha rifiuto questa missione che parte dalla giottura di Carlo di Cristo percepisce come una missione coloniale e poi c'è la materia albanese in questo stile europeo con colori un po' meno ducenti in maniera albanese che qui tutto sta stampato informalmente con le bancarelle con tante banderine e non c'è il tutto sull'edivizia andrà una costala scarpata come poterlo e il giovane e il giovane ragazzo senza piedi o senza giù qui sono le contestazioni da parte dei giovani serbi ricorso questo sindicato dove io ho stato in Jugoslavia si conosce come tu in inglese è il modo in cui il giornale considerato liberale della pristina di oggi ha accolto la indipendenza tanti discorsi su fine milioni eccetera eccetera un padre autodosso della Serbia titolo titolo tutti questi via di slavio c'è una lettura chiara con un chiaro insulto della pagina carabinieri italiani che abbiamo trovato la serba ma ci sono i cavalli messi a non attacchi post il 15 settembre nel centro del centro di Cristo c'è c'è il c'è il coso ex priministro è consegnato all'aia sotto l'accusa dei primi di guerra il quale è stato assolto il perdetto di assoluzione è stato pronunciato sei mesi prima dal mondo ed è stato recepito anche dal tribunale un po' sorprendente e il suo ritorno per un valle segnato che tutta la sua area l'area est lo abbia sostenuto con una serie di manifestazioni con una grande campagna mediatica dietro di lui dall'altra parte la scelta l'agipa questo è un'altra corrente del corso militante oggi politicamente la scelta c'è 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 l'agipa che vengono dall'altra parte trasformati sull'agipa l'agipa il cane non ha più 60 anni non ha più 60 anni e il tutto con un più chiaro come dire l'economia dismessa qua è solo che standard vanno l'acqua reasons della scelta suggeriscono i tecnici invece voglio vedere qualà l'agipa queste sono delle strutture l'inglese però c'è la la genealogia, come una fotografazione armandia, che qua corrisponde un partito politico, una struttura interna, cioè dei servizi segreti, e ONC, o gruppi più o meno che manovano a marchi, in qualche modo, compagnie private che hanno queste funzioni. Ma adesso, di là di questo, qui c'è una grande storia, una grande fight che potreste andare a riguardare, per chi ci parla delle storie anche di Manfa oggi, della storia Guantara, è una famiglia, dunque, che era di Inca, che non era più di un clan, cioè di Inca di Ramos Sharabinei, un ex che, come vi ho visto, è finito all'area, e poi ripetono, ma alla fine della guerra verrà avuti e uccisi, con l'eccezione di uno, che riesce a scappare prima. che conoscono i carcerieri, è uno dei capi di mutazione contro la Dinai, le manifestazioni per sostenere che la cosa non è mai avvenuta, e allora i testimoni vengono arrivati all'ammazzotti, una o una o una, chi va, a chi va, le scelte sono scelte in guerra, vedete, la scelte in guerra, è interceduta, non si dice, delle guerre di mafia in Italia, c'è il personaggio in questione, è sempre lui, il personaggio in questione era capo, non si dice, ma è sempre un'immagine, ma è quella una situazione sbagliata, interna, delle donne armate, degli ordi, che sono paliresi, ho trovato esempio, è un'imagine excelente, contanto, per la maniera da prestare in macchina, una prevedere, magari una statuare per i Nicoli, di Napoli, questo è l'ultimo testimone che è sottoprotezione autobomba, eccetera eccetera queste sono immagini non facili a riferire perché semplici da dire non c'è un modo antepico e sulla criminalità non è importante però se uno ci guarda praticamente trova che il collezionale di un ucciso da altre persone di un ucciso da rapanese e parliamo di decimini degli altri parliamo di pochi casi io ho ricostruito una serie di dati di processi, l'ultimo ucciso è il paderno, il paderno, il paderno, il paderno e il paderno, il paderno, il paderno, il paderno e il paderno, il paderno, il paderno, il paderno il paderno, il paderno, il paderno, il paderno con uno stile napolitano perfetto c'è anche una trasmissione di modelli io credo che su questo ci sia molto da rappresentare e forse in Italia non è qualcosa da raccontare da dire che non è stato dicendo il know-how militare o l'esercizio di chiara io ho ricostruito adesso la questione invece parlo di carmi più generale quindi se c'è un po' voglia anche sparsi qualche domanda e noi abbiamo anche questa categoria interpretativa grazie alla collaborazione con il comor adesso che abbiamo la parte della nostra è un'attività che ci fa per capo l'abbiamo messo in immagini di come ci viene salvato anche per ricordare la stanza di San Canizano e il nuovo di San Canizano nella città quindi sicuramente questo progetto vuole guardare anche la curiosità di quanto c'è sui belgani perché perché l'Italia comunque qui sono europeoista convinti ma non c'è per il cerchio che l'Europa si defini necessariamente la propiettiva di pace e d'altra parte come dicevamo prima ma underground è un posturizzato sotto da strassare le due pagine molto significative di quello che succede sotto suolo è un caratterizzato da un tunnel che parte da te ma è un grande quando il padre o il figlio escono dal tunnel sono di fianco l'Europa sempre ma è un grande supermercato e quello che è successo negli ultimi anni dell'Europa occidentale ricorda tutto sommato quella illegalità che ha caratterizzato l'autonomia dell'Europa orientale invece è annunciato tutto l'argomento che prende circolare cioè che il nazionalismo occidentale civico è benissimo mentre quello dell'esterno è il primario e al fine tu li ricordi anche il caso dell'almatia del fallimento delle finanziate che hanno debaucalato tantissimi cittadini non siamo lontani siamo molto vicini a quello a quello che è successo in tutti i sei mesi in Italia che va nel mondo a me perché siamo negli Stati Uniti al fallimento di alcune banche che hanno reso poveri tantissimi cittadini che hanno diffusato la nazionale e che loro risparmio ecco allora che il paradigma di una certa illegalità è indubbiamente il paradigma della più nuova detenzione tutto dice tutto chiaramente all'inizio del libro trazzare si fa questa norma e la sua cosa è lecita e la cosa è lecita e ricorda gli aspetti dell'agrovalutazione appunto la sottigliarsi al marzo con ciò che è legale e che è legale il ragionamento stesso è un certo di legalità la complessità ha cresciuto nelle categorie geologiche la crescita scoporzata nel mare e nel conflitto nei settori in tecchi e l'ambia diversificata di strumenti finanziari non leggeri alla finanza internaziale allora possiamo dire alla fine che la categoria che tu vuoi ricordare di quanto è successo il balcane è la categoria che c'ha partito forse più di altre categorie che hanno caratterizzato la grande balcane che non si possono responsabilizzare per quella etnica per l'ambia che è un lavoro che è un sposto parlo tu hai individuato una categoria interpretativa di quanto è successo dal carico è che c'è molto vicino a più di alta sì io ho un demotino per cui ho andato a presentare il libro o a presentare discussioni con chi si occupa di trazione è un'altra cosa interessante sull'italistico proprio così come su quello proprio però l'idea è che non circolare in maniera di identificare quali sono i margini in cui questo ci tocca e in quale dimensione si può credire da qualche parte quindi schiena tutto quanto quello quello che premo di dire nel libro è che non intendo puntando il mentore su questi elementi nuovi dal quadro economico parla a parte di quello che ha scoperto qual è la natura del virus semplicemente dico che se non prendiamo in considerazione questo ci sfinge la comprensione di che tipo di malattia di patologia stiamo andando se non si prende in considerazione i fattori extra cioè quelli che passano al di là di quello che gli economisti possono censire e non studiare o i politologi possono comprendere a guardare il punto in Parlamento si possono guardare come gli stativi parlando di come vedo c'è fatto di robe ma allora c'è anche una comprensione della dinamica che interessa proprio il cittadino che fa per il nome che fa tutto questo sulla questione specifica del discorso di quale siamo a tutto questo secondo me tutto è questo la globalizzazione pone una domanda ci vuole di essere ci richiede di essere più esigenti sostanzialmente verso noi stessi verso l'Europa e l'Europa e l'Europa e l'Europa e l'Europa e l'Europa e l'Europa ritengo che l'Europa è una missione che l'Europa ha detto successo nel Sanana una situazione di conflitti continentali diciamo l'Unice che ha franco-tedesco che ha causato due conflitti mondiali e che ha stabilizzato l'Est d'Europa e qual d'altro e che sarà superata a qualche misura oggi nessuno in Francia si sognerebbe di ammassare l'Europa e l'Europa in tedesco o viceversa quindi l'Europa fa una ricetta che ha causato a duro costo delle proprie cucine tuttavia non può sederci sopra è necessario una cultura maggiornamente esigenza rispetto a quello che è una lettura del quadro sul terreno lo stesso vale per una prospettiva dal basso che è quella dell'operante che vuole vendersi tantissime che è quella di giornalista che io nel libro ho praticamente un'omenzione e un'omenzione però io trovo abbastanza direi poco agevole il percorso con cui arrivo questo libro cioè io parlo avevo forse avuto qualche iniziativa di cooperazione con la nostra università che ha la verità però avendo lavorato con un operante sul terreno dopodiché sviluppo tutto questo in chiave accademica mi rendo conto che mi mancano le fonti cioè metà delle fonti che ho trovato nel libro cercato invece scrupoloso nell'avutare quando mi arrivavano queste notizie sono fonti che mi sono andati a cercare io ho dovuto fare un lavoro di riflessione di scala per trovare il reperto l'amore ho dovuto fare giornalista allora io mi chiedo per una cultura con un mercato sostenibile di socialità di rapporti e anche per identificare quali sono le possibilità di commercio è possibile avere tutto questo se non esiste una cultura esigente rispetto alla loro transformazione della responsabilità dell'autorità pubblica e degli operatori economici il libro va in modo il quadro è difficile e complesso però non possiamo legare che siamo legati a doppio figlio con quello che è il soggetto dei balcani in mille mondi non sono solamente i flussi migratori ma sono anche i rapporti tra territori e economie eccetera eccetera credo che se ci dimettiamo a dire che i balcani sono quella roba l'avano la città la guerra e la storia di quella che possono diseguire se il video è un complice e l'Europa è stata la medicina ci puliamo un ottimismo che non ha nessuna ragione che semplicemente farà pulitare le malattie come provare a indicare di cui provare un'analisi che propongo ricordiamoci parliamo di corrente europee parliamo di alte velocità tutto bene ma anche questi corridoi si portano appresso sempre anche in tunnel dove c'è un'altra scala di economia che va per tanto meno c'è da dove proprio noi abbiamo voluto mettere questa frase che la vediamo ma la vediamo che adesso se la lì non sembrava superato questo problema è di Alexander che ci dava sempre una lentezza e con la lentezza è anche facile incappare in un certo tunnel di di che la vita detto questo è stato molto interessante il riguardere il termine rispetto di questo fatto soprattutto l'efficacia e se c'è qualcuno che vuole porre qualche domanda mi sembra che sia stato davvero sottolineato rispetto paradigmanico che riguarda ci riguarda anche rispetto a quello che sta succedendo quindi c'è un po' che vedete come vai pericare la vita per non crescere o testimonianza o qualche no faccio un meno insomma insomma volo chiedere cosa cosa pensa nel micro credit e se ci sono cioè se hai esperienze di rischi legati all'esperienza di micro credit sulla vostra signora che ha una percezione che è dovuta a un po' schifo fra il ma da un certo punto di vista alcune esperienze che tu visitare ma sono farsi interessanti che potete incoraggiare sul fatto di pensare che di credit però d'altro campo rappresenta una soluzione cioè un modo di affrontare un'assenza di stati eccetera semplicemente mettendo su canali ristretti trovo che a volte sia abbastanza tutto non credo che per sé rappresenta la soluzione laddove c'è l'assenza di per dire ragionamento su quale è un posto in determinata regione o di un paese che non è mondiale oggi se può dire Mosia non è grosso che sia realistico dirlo ma che come dire triste paradossalmente il ruolo di questi territori di mondia mondo in prova tracciata con questo storico dell'ottocento del novecento è un ruolo che premia sapere stare nelle zone più alte alla reticulità più alta e alla reticulità che non sia una zona di rischio rischio più alto come se è lecino di rischio un ruolo che è molto pensato questo per un certo punto credo che sia uno strumento che può incoraggiare alcune attività di rischio di rischio proporre il vero problema di rischio del potere pubblico rispetto alle comunità abbiamo il potere pubblico che si è ridotto dal municipio che ha legato enormi sacchi di totale annominico di mancanza principio uno dei problemi che ci hanno messo più importanti oggi ragionando in un'unale periferica di Europa per esempio che hanno vissuto la guerra sono se non vengono i vecchiani senza voglianza ai fili dei caos che io li vedo arrivare soprattutto alle università che sono studenti che sono fuori da zone come dire che sono state attoriate negli tibetici hanno vissuto una transizione o voluto una transizione al mercato di ragazzia che è stata molto vicina a una guerra che è stata una guerra nel senso pieno e compiuto e che mancano completamente di aver visto qualcos'altro diverso e quindi fa più fatica nel momento in cui il grande paradigma neoliberale che ha gestito dei danni di storia mondiale in crisi da parte di un'uno con un'esperienza che si può appoggiare in un santo con una zonale di colunio io credo sia che possa essere qualcosa di interessante localmente ma non credo che passate insomma io ho capito due giorni fa di lei di stazzare non sorprendendo che ci trovavo ma che mezzo mi ha conosciuto una mia professione anni fa che ci trovavo abbastanza nel senso di non sorpresa è anche qualcosa che ho letto non morbo mi sembrava di legge in realtà ritrovare la stessa storia portata in modalità diverse più una torna di una strada di una volta e neanche più in realtà come diceva anche Francesco poi mi sembra di raccontare la stessa storia che si svolgeva in altri territori è diventata in mente una cosa che a sei tempi di una delle piramidi come ancora in Albania diceva l'autore che è stata ricetta nel libro tanto da Zocchi mi sembra che noi possiamo guardare i barcani di quello che è successo in Albania quello che è già sempre carico il nostro come il suo paese indietro in realtà si stava raccontando il nostro futuro e il professor questo 18 un po' di anni fa ma sono passate un po' di anni che si stessero raccontando con la posizione dalle nostre presenti hanno molta impressione che più che interrogate su quello che può fare l'Europa risponde a queste dinamiche che poi alla fine l'Europa vedete quello che è stata l'azione internazionale di un'unica che tra l'altro l'Unione Europea ci posso avere una grande attenzione anche ai sistemi formali giustizie di legge formale molto avanzate la regolazione dell'unica non le nuove di legislazione sui tempi diritti umani molto più avanzati ma non le nuove le diane però sistemi formali perché si creava una patina di carità formale senza poi forse assolutamente più che chiederci cosa possiamo fare per farlo oltre a chiederci quanto questa storia non è la nostra e di quanto in realtà un libro come questo è interessante che si riscrive il futuro della crisi dello Stato che anche noi si è più venuto perché se ci sono le alla fine anche non so una cosa come un attimo sulle ronde è in qualche modo una forma di indicazione del controllo dello Stato sulla sulla sicurezza sulla violenza applicata esattamente come le compagnie security che poi mortano a questo dubbio no? mi chiedo se anche il dottor continuere questa una cosa sconfortante considerazione grazie